Legge lui o leggo io? Leggi tu! Forza! Ci siamo? Vai! Il signor Koiner non amava i gatti, non sembravano amici degli uomini e dunque lui non si consumirava mica loro. Se avessimo gli stessi interessi, disse, anche il loro atteggiamento stile non mi disturberebbe. Comunque il signor Koiner cacciava dal momentiere i gatti dalla sedia. Cercare riposo è un lavoro, disse, e deve essere ricompensato. Anche quando i gatti miagolavano davanti alla sua porta, si alzava dal letto e li lasciava entrare al caldo. La loro ipotesi è semplice, disse, se chiamano gli si apre e quando alla fine nessuno apre non chiamano più. Ma chiamare è un passo avanti.